Assessore Gabriele, diversi i nodi da sciogliere in questo periodo, dall'Atitec al problema annuso della Fiat, ma anche altre situazioni come Eutelia. Qual è la situazione in questo momento? La situazione è di un ricorso ad ammortizzatori sociali che è aumentato di 10 volte rispetto allo scorso anno. Abbiamo siglato un accordo con il governo per i primi 60 milioni di euro, che sono più di quello che abbiamo avuto l'anno scorso, ma sono esattamente un quarto di quello che serve per assistere il lavoro che si perde. Il problema è che tutti i comparti produttivi, non solo quello metallo-meccanico, quello dell'auto e dell'indotto, ma un po' tutto, compreso anche l'aerospazio, soffre di una crisi e soffre del fatto che ci sono una parte di imprenditori che scappano, che non intendono investire e confermare gli investimenti in corso. Su questo noi dobbiamo provare a fare naturalmente un'azione parallela, da un lato assistere i lavoratori perché non abbiano problemi di reddito e dall'altro incentivare le imprese e gli investimenti ad esattamente quello che stiamo facendo come giunta regionale.